Quest'anno a LUSH di New Orleans sono stati presentati dati molto importanti relativi all'utilizzo di ponatinib nelle lalfi adelfia positive. In particolare due lavori, il primo presentato da Nicholas Short, quindi il gruppo del MD Anderson, relativo alla combinazione ponatinib e blinatumab nei pazienti adulti con lalfi adelfia positiva di nuova diagnosi. Sono stati riportati i dati relativi ai primi 40 pazienti trattati, 12 dei quali erano già in remissione completa al momento dell'arruolamento, prevalentemente con un trascritto P190 e circa un quarto dei pazienti con trascritto P210. Tutti i pazienti hanno ricevuto un trattamento combinato con ponatinib al dosaggio di 30 mg al giorno che poi veniva ridotto a 15 mg al momento del raggiungimento della remissione completa molecolare e blinatumab fino a 5 cicli al dosaggio standard convenzionale che tutti noi siamo abituati ad utilizzare. Oltre a questa terapia mandatoria, la profilassi del sistema nervoso centrale con 12 rachicentesi medicati che venivano eseguite nel corso dei vari cicli di trattamento. Quello che si è osservato relativamente al primary endpoint che era il raggiungimento della risposta molecolare completa, si è visto che tale risposta è stata raggiunta in circa il 90% dei pazienti e un unico paziente è stato sottoposto a trapianto allogenico in quanto mostrava una persistente mar di positività e se valutiamo l'outcome in termini di sopravvivenza globale con un follow up mediano che attualmente è di 15 mesi, a due anni la sopravvivenza si proietta al 95%. Quindi dati assolutamente inusuali se consideriamo quella che è la patologia di cui stiamo parlando, quindi quella che era una delle leucemie acute più difficilmente curabili fino a pochissimo tempo fa. Oltre a questo lavoro che esplora appunto una nuova combinazione quindi inibitore e immunoterapia è stato presentato anche il follow up a sei anni del trial sempre dell'MD Anderson Cancer Center che combina ponatinib ad un backbone di chemioterapia standard che è rappresentato dall'Ipersivad. Gli autori hanno riportato questa casistica di circa 90 pazienti che ricevevano 8 cicli di chemioterapia in associazione a ponatinib, ponatinib che inizialmente veniva somministrato al dosaggio di 45 mg al giorno, dopo circa 35 pazienti il trial è stato emendato a causa di eventi avversi cardiologici che sono stati riscontrati e quindi il dosaggio, la posologia di ponatinib è stata ridotta a 30 mg per poi essere ulteriormente ridotta a 15 mg nel momento in cui i pazienti raggiungevano la risposta molecolare completa. Anche con questa combinazione sono emersi rate di risposte molecolari molto alte con sopravvivenza proiettata a 5 anni del 75%. In termini di tossicità ritengo sia opportuno comunque sottolineare come una percentuale non indifferente di pazienti purtroppo sia andata incontro ad eccesso in remissione completa, in alcuni casi relata a tossicità associate al farmaco. globalmente eventi avversi di grado superiore al terzo cardiovascolari sia venosi che arteriosi si sono riscontrati nel circa il 5-6% di tutti i pazienti. Quindi si può concludere evidenziando quella che è l'efficacia di questo approccio con un prezzo in termini di tossicità che sicuramente si è ridotto nel momento in cui la posologia di ponatinib è stata modificata e con un follow up a lungo termine anche in questo caso estremamente positivo considerando l'aggressività della patologia.